Carlotta ASMR ciao a tutti, come state? spero stiate benissimo benvenuti in un nuovo video in Colosap quindi sarò molto vicina al microfono ed in quindi intense whispering ho messo anche la cuffia per l'occasione, l'auricolare cosa che non faccio mai parliamo oggi un po' di qualche serie tv nell'ultimo periodo tanto che non faccio un video sulle serie tv subito prima vi voglio far vedere un piccolo estratto di un giochino che è in free download quindi è libero, lo potete scaricare gratuitamente sia per Apple che per Android che si chiama e volevo ringraziarli per aver sponsorizzato questo video allora io ci ho giocato e poi ho deciso di accettare in pratica un giochino di cui vi faccio passare sicuramente adesso delle immagini che somiglia tantissimo a un altro si parla di crime insomma la storia di base è crime già lo sapete quanto io amo questo genere e si devono trovare all'interno di ogni scena che sia una stanza per esempio determinati oggetti che saranno indizi che ci porteranno poi alla verità oltre è anche rilassante devo dire per questo anche ho deciso di accettare e a me questo stile di gioco piace tantissimo e ero una incallita giocatrice di un altro molto simile di cui ovviamente ora non farò il nome mi piace molto si può anche arredare sicuramente avete già visto il giardino rinnovare l'arredamento insomma è molto molto carino e quindi se vi piace c'è qui sotto il link per scaricarlo quando si tratta di gialli o di cercare le cose tipo anche sulla settimana enigmistica uno dei miei preferiti era il giochino a parte del cruciverba nel trovare le differenze come mi piace andare a cercare e stavo per dimenticare che però c'è bisogno per tutti i giochi di questo genere di una connessione internet non potete giocare se siete offline bene allora iniziamo subito mi sono segnata 1,2,3,4 4 serie sicuramente poi aggiungerò forse se non è troppo lungo il video un paio di altre cose intanto vediamo se sta registrando si allora cominciamo subito con Stranger Things che è uscita il 27 maggio la quinta stagione volume primo io li detesto è la stessa cosa che hanno fatto per la casa di carta mi è piaciuta molto 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 non vedo l'ora che esca la seconda parte il secondo volume ma più che altro per vedere che è su Netflix nel caso non lo sapeste ma insomma penso di sì io più di tutto ho adorato le prime due stagioni di questa serie quindi non mi pronuncio troppo fino al vedere l'ultima stagione cioè l'ultimo volume della quinta stagione il secondo volume voglio sapere che fine cioè come va a finire e mi auguro questo non l'ho capito ancora che questa sia veramente la fine di Stranger Things perché si cade altrimenti nel ridicolo è una serie che mi piace tantissimo anche la stuccio a tema che ho acquistato che è il mio stuccio dove attualmente metto tutte le penne però sinceramente l'avrei fatta finire la seconda stagione per esempio devo essere sincera o per esempio anche la casa di carta appunto molto spesso continuano per una questione di soldi però mentre la quarta stagione e la quarta stagione avevo trovato i personaggi proprio pompati al massimo nelle loro cioè erano cambiati erano diventati forzati qui stavolta molto meglio insomma è un horror in pratica siamo nel genere horror ma non si tratta più di un thriller fantasy insomma è quasi un horror quindi bella ma aspetto il seguito poi vi parlo di Bridgerton ho guardato la seconda stagione che mi è piaciuta molto più della prima sinceramente hanno definitivamente cambiato come dire impronta mentre nella prima stagione sempre su Netflix è una serie originale Netflix anche questa come Stranger Things mentre nella prima stagione non c'era altro che fornicamento diciamo così per usare parole tecniche qui al contrario cioè non ci sono più tranne qualcosa cioè tipo una scena in particolare non spolirò eh e altre scene insomma sparse ma robe poche cose è molto più sodria cioè ci denti si è più sodria e quindi è più godibile secondo me ma è comunque una serie molto leggera cioè proprio quando ti va secondo il mio conto di vista quando hai voglia di metterti lì non pensare a niente e vai e fai andare il video insomma ascolti pure senza ascoltare cioè per me è così più e mi è piaciuta molto di più della seconda assolutamente nonostante io mi fossi molto affezionata alla coppia della prima stagione io per esempio fra allora fra le due protagoniste femminili per me non c'è paragone mi preferisco questa qui della seconda stagione ma pure per i protagonisti maschili assolutamente a lui della seconda stagione mi piace proprio tantissimo tantissimo e quindi boh mi hanno convinto di più come come coppia non coppia perché non sono una coppia però sono i protagonisti ovviamente carine mi piaciuta molto non so di cosa tratterà la terza ma insomma vediamo sicuramente la guarderò come momento leggero ovviamente ditemi sempre come al solito se voi le avete guardate queste serie tv se vi piacciono se non vi sono piaciute se li guarderete io riprendo un attimo fiato qui mentre il mio stomaco corgoglia ok poi su disney plus ho guardato una serie tutta italiana le fate ignoranti quindi ok è di Opsetec sicuramente l'ho pronunciato male lo sbaglio tutte le volte il cognome di sto regista e non mi dispiace nel caso io l'abbia sbagliato tutte le volte mi provo mi ingrocia e c'è il film le fate ignoranti lui ha fatto il film le fate ignoranti tanti tanti anni fa cioè non l'avete guardato guardatelo merita veramente con tra gli altri margherita bui Stefano Corsi che sono i protagonisti ma c'è anche Gabriele Cargo e gli altri attori non ricordo gli altri attori non ricordo i nomi è stupendo il film e adesso a distanza di tanti anni ha fatto una serie che non si è capito se si sia conclusa o no intendo se ci sarà una seconda stagione in poche puntate non sono tante molto carina mi è dispiaciuta anche se io avrei chiuso quel film diciamo che io pensavo che qui ci saranno per forza un pochino di spoiler del film cioè quello che dico pensavo visto l'inizio però poi vista la velocità con cui si svolgevano i fatti ho capito che mi sbagliavo pensavo che tutto fosse ambientato prima diciamo della dipartita siamo vaghi di un personaggio invece no parla del dopo parla anche un po' del prima parla del dopo e mi è piaciuta veramente molto e però non so aggiunge dei dettagli che non so se lui il regista avesse voluto adesso chiamerò il regista per non sbagliare più non so se lui avesse voluto già avesse già previsto determinate cose nella sua testa che l'ha inserito nel film e poi abbiamo voluto reinserirle nella serie o se siano state inventate proprio in occasione della serie comunque ci stanno bene insomma queste specifiche che aggiunge si dà più spazio anche un po' ai personaggi esterni come dire e invece quello che era il personaggio di Gabriel Garco che non è più che nel film era Gabriel Garco cioè perde la cosa principale che aveva la caratteristica principale che aveva e non so per quale motivo abbiano sorvolato su questa condizione di Gabriel Garco cioè come se non ci fosse mai stata questo non l'ho proprio capito visto che i tempi sono gli stessi però scelta loro vabbè non l'ho capita ma va bene se qualcuno ha capito perché lo dica per favore poi un altro film un'altra serie tv tutta italiana sapete non mi ricordo sempre su Netflix si è Vedeltà allora questa serie io non ho capito ancora se mi sia piaciuta o no nel senso che spero ci sia una seconda stagione mi è piaciuta da molti punti di vista e da altri no allora si parla di una coppia sposata che sembra felicemente sposata cioè proprio si amano sti due e vediamo il dietro le quinte diciamo parte vedere la loro relazione felice vediamo quello che c'è dietro non so i protagonisti lei proprio non mi piace parlo dell'attrice parlo del personaggio non mi piace proprio non so perché non mi piace il suo personaggio non lo so cioè in alcuni momenti si mi piace in altri momenti meno diciamo che per tutto il film per tutte le puntate mi sono ritrovata a sto cercando di dirlo senza spoilerare mi sono ritrovata a fare il tifo per qualcosa facciamo così e poi alla fine per un'altra cosa non so non so non voglio fare spoiler quindi è difficile da dire senza dirlo comunque in base alla fine di questa prima stagione io mi auguro che accada quello che tutti crediamo potenzialmente dovrebbe accadere dopo l'ipocatetico dopo che ci sia una seconda stagione o che sia solamente nella nostra testa riprendo ancora fiato perdonatemi poi vorrei inserire e terminare l'ipocatetico dopo l'ipocatetico cioè è una serie ma non proprio una serie LOL 2 non so se l'abbiate visto anche qui produzione doppia italiana questo su Amazon Prime LOL la faccio curtissima per chi non lo sapesse è un gioco condotto da Fedez e quest'anno anche da vabbè mi sfugge il nome un partecipante all'anno scorso in cui i protagonisti di questo reality chiamiamolo così sono dei comici degli attori comici che si sfidano a non ridere e durante le puntate vanno di tutto pilotati da Fedez e da Frank Matano eccolo lì che mi fa cioè mi fa come si fa a non ridere quando lui ride cioè è impossibile è impossibile è impossibile e anche se dice una stupida ci fa troppo ridere ed è pure visto molto leggero quel programma però ci sta mi ricordo che poi era uscita a fine febbraio quindi in un momento un po' critico e si trova ogni giorno i critici di febbraio e mi ricordo che mi ha fatto tanto tanto bene guardare le puntate di LOL e quindi si sfidano e ci sarà un solo vincitore perché chi ride per due volte consecutive o chi non partecipa attivamente al gioco viene cacciato ovviamente gli fanno fare la qualunque organizzano cose e vi assicuro che non ridere noi abbiamo provato a non ridere da spettatori cioè non è possibile quando sai che non devi ridere ti fa ridere qualsiasi cosa veramente la prima stagione mi è piaciuta di più la prima versione non so come dire mi è piaciuta molto di più però ci sono stati dei momenti proprio e la fine cioè diciamo che una eliminazione particolare di una donna adesso sul vago ma proprio mi ha uccisa verso la fine fine proprio perché cioè era ovvio cioè era valese che sarebbe uscita in quel modo insomma e la persona che ha vinto a me non ho mai fatto ridere sinceramente in lol sì ma in generale è una persona che non ho mai seguito per quello che fa ecco non mi fa un po' però è stata divertente come è stata divertente come stagione e l'ho voluta quindi inserire tra le serie tv e niente queste sono quelle che ho visto nel che ho visto in tanti mesi perché ormai lol l'ho vista a febbraio l'ho vista pure fedeltà l'ho vista appena uscita per il certo l'ho vista appena uscita quindi marzo o aprile Stranger Things l'ho vista subito e basta però solo di queste alle fate ignoranti anche l'ho vista appena uscita fatemi sapere quale di queste serie avete preferito voi se le avete guardate tutte consigliatevi qualcosa di bello che non siano però serie con 8000 stagioni perché non mi fa di impegnarmi in questo periodo vi mando un grande grande bacio e ci vediamo giovedì con un altro video ciao ciao ciao